I finanzieri del gruppo di Locri in provincia di Reggio Calabria hanno eseguito il sequestro preventivo per equivalente di beni immobili e disponibilità finanziare per oltre 3 milioni e mezzo di euro nei confronti di due noti avvocati della Locri de indagati per reati tributari. L'attività trae origine da una verifica fiscale eseguita nei confronti di uno studio legale associato di conducibili ai due professionisti a conclusione della quale, mediante investigazioni effettuate sulla documentazione acquisita e mirate indagini finanziarie, le fiamme gialle e carabresi sono riuscite a ricostruire il reale volume d'affari conseguito dagli stessi negli anni di imposta ispezionati e recuperando a tassazione circa 9 milioni di euro in materia di imposte sui redditi e 2 milioni di euro di IVA. Inoltre è stato accertato l'utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti per circa 300 mila euro riconducibili ai lavori edili mai realizzati effettivamente, nonché a sponsorizzazioni rese nei confronti di una società calcistica all'epoca militante nel campionato di eccellenza opportunamente gonfiate dal presidente protempore di quest'ultimo al fine di permettere allo studio legale l'evasione delle dovute imposte. I due avvocati sono stati quindi segnalati all'Agenzia delle Entrate per la rilevante evasione fiscale constatata, nonché all'autorità giudiziaria per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo delle fatture false individuate di infedele dichiarazioni in quanto gli importi delle imposte evase superavano le soglie previste per la punibilità dei fatti anche sotto il profilo penale. Il GEP del Tribunale di Locri pertanto su conforme richiesta dalla Procura della Repubblica ha disposto il sequestro di beni degli indagati a tutela delle ragioni dell'erario. I beni sequestrati dai finanzieri a garanzia dal credito eradiare consistono più in dettaglio in beni immobili costituiti da appartamenti e terreni nonché disponibilità liquide esistenti su conti correnti bancari per oltre 3 milioni e mezzo di euro.